Siamo a Taranto, Paolo VI, alle spalle del noto call center Covisia, quello che in buona sostanza è subentrato a Teleperformance e siamo con un rappresentante dell'USB, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, Francesco Marchese, perché l'USB ha voluto denunciare una situazione strana, terminato l'uso distorto dell'ammortizzatore sociale causa Covid, ora l'azienda ha imposto una settimana, mi pare, di astensione dal lavoro con lo strumento della flessibilità e quindi con la modalità che queste giornate di lavoro poi saranno recuperate. E allora, Marchese, cosa non funziona in tutta questa vicenda? Intanto non funziona il fatto che siamo di fronte ad una sede chiusa, noi in questo momento protestiamo di fronte ad una sede di un call center chiusa, un call center che è arrivato a Taranto, un grande gruppo multinazionale di call center che è arrivato a Taranto solo due mesi fa e in questi due mesi, dopo aver assorbito parte del personale di Teleperformance, ha attinto a piene mani allo strumento dell'ammortizzatore sociale, il FIS per Covid, con causa alle Covid, uno strumento gratuito che il governo ha messo a disposizione di tutte le aziende in difficoltà, ma ne ha fatto un uso distorto, ha attinto a piene mani utilizzando l'ammortizzatore, non per alleggerire la presenza dell'organico nelle sedi di lavoro, come era previsto, per le finalità per cui è stato istituito, ma per farne uno strumento di politica industriale, per farne uno strumento di organizzazione del lavoro, tant'è che lo ha applicato anche ai lavoratori che lavorano da casa in smart working e che non hanno alcuna necessità di distanziarsi, perché lavorano già nelle loro abitazioni private, quindi l'ha applicato a loro, l'ha applicato in misura oraria per renderlo uno strumento per adeguare al meglio l'organico alle prestazioni di lavoro. Dopo aver fatto tutto questo per due mesi, ha comunicato, e lo abbiamo appreso solo da fonti sindacali, che dall'1 settembre non avrebbe più utilizzato questo strumento. Le motivazioni di questa scelta non le conosciamo, con questa azienda non riusciamo a interloquire facilmente. Possiamo immaginare che, sappiamo che questo strumento dal 1 settembre, il FIS per Covid, non è più gratuito, quindi possiamo immaginare che questa nuova condizione abbia modificato le decisioni aziendali. Non è più gratuito per quelle aziende che non abbiano subito una perdita di fatturato. C'è del resto una nota denuncia dell'Inps di qualche settimana fa, che appunto denuncia come il 30% delle aziende che abbiano fatto ricorso a questo strumento non avessero subito alcun calo di fatturato. Ora, ripeto, non sappiamo quali siano le motivazioni precise della scelta di Covisa, ma sta di fatto che dopo poche ore dalla cessazione del FIS, dalla possibilità di non utilizzare più il FIS, l'organizzazione del lavoro di Covisa è andata in tilt, come se fosse scoppiata una crisi all'improvviso. Tanto da imporre, Covisa, a tutti i dipendenti presenti in questa sede, la stensione dal lavoro per una settimana e oggi la sede è chiusa. Questa stensione viene ottenuta attraverso uno strumento di flessibilità che ha ottenuto un mese prima, preparando il terreno a quanto sarebbe accaduto evidentemente, attraverso un accordo sindacale firmato con CGL Cisle Will, che introduce interventi sul costo del lavoro e interventi di flessibilizzazione della prestazione che scaricano sostanzialmente grossa parte del rischio di impresa proprio sui lavoratori, con l'avvallo di CGL Cisle Will. Concetta Fontana, RSA USB in Covisa, Lei è stata la prima o una delle prime a denunciare in sede queste situazioni davvero incredibili. Allora sì, in pratica giorno 1 alle 10 del mattino ci hanno detto che dovevamo abbandonare il lavoro e quindi dovendo utilizzare i nostri roll oppure una flessibilità di ore che dovevamo recuperare che erano nate come volontarietà ma che ci sono state imposte, completamente imposte. Quindi l'intera settimana chiusa e tutti a casa. Tra l'altro anche i lavoratori da casa hanno imposto la stessa cosa. Quindi niente, questa è la situazione, l'azienda completamente chiusa.